Io sono un comico che vende la vita in un paese che non ha nessuna pietà. Questo è uno spettacolo del tipo in prova, voi non avete idea la fatica, la difficoltà di fingere un vuoto di scena, un vuoto di memoria, un qualsiasi errore, anche una stecca all'unisono di tutta l'orchestra e tutto fissato, tranne il mio ponte che me l'ho fatto due settimane fa, che se schizzasse nelle prime file, se potete ritornarmelo perché costa più della scenografia. Ora, pietà per la fantasia, pietà per l'immaginazione, pietà per questa canzone che serve solo ai titoli di testo. Questi sono degli appunti per un film e lo stile, come si vede dalla bozza dei costumi, siamo in prova, è un western carsico. Io racconterò il soggetto del film e la colonna sonora verrà fatta compiutamente dall'orchestra, i virtuosi del carso. Ovidio diceva che non c'è niente di più ridicolo di un uomo anziano che corre dietro a una ragazzina. Grazie.